Allora, vedrete sfilare naturalmente le nostre concorrenti, le vedrete sfilare con gli abiti di ogni negozio nelle varie uscite. Allora, le concorrenti sono di varie categorie. Dunque, la prima categoria, Miss Bondeno, ovvero le due giurie, perché adesso ne parliamo, voteranno la ragazza, aperto una parentesi, giovane, diciamo così, quindi teenagers, chiudiamo la parentesi, che diventerà Miss Bondeno 2019 e verrà premiata dalla Miss Bondeno 2018, che è nei paraggi, e che mi pare sia Rachele Anzaloni, dovrebbe essere qua pronta a consegnare la... Perfetto, per fisi sei, sono contenta. Allora, poi si passerà, vedrete nell'ordine, sfilare le ledi, le ledi che sono le signore affascinanti, che porteranno con molta grazia e con tanto spirito, perché non è facile venire su un palco e dire ok, mi metto in gioco. Vedrete le ledi, quindi verrà votata ledi più. Le ledi arrivano da ogni parte di Italia, in questa sera le vedrete, vengono dal nord e vengono dal sud. Abbiamo delle persone, mi pare, di Messina, dico giusto Alessandro. Ecco, quindi abbiamo delle persone che arrivano da tutta Italia a Bondeno. Poi, vedrete sfilare per la prima volta le curvi, ovvero le taglie morbide, ok? In più, in più, in più, in più, vedrete, ci sarà la votazione di Miss Popolarità, ma ne parliamo dopo. Allora, chi decreterà queste ragazze vincitrici? Eh, ci sono due giurie, quindi se non vi piace la loro decisione, le giurie sono qua, il tavolo, è questo, si sono messi tutti insieme, avete fatto un grande gruppo, è una giuria unica praticamente. Allora, comunque, da questa parte abbiamo la giuria della Ferrara da bere. E sono la Ferrara da bere, la Ferrara del Jet Set, diciamocelo, via. Allora, dunque, sono Gabriella Paluzzi, commercialista e frequentatrice, appunto, bene, dei salotti della Ferrara da bere. Eh, un applauso, fatene uno di applausi, non perdiamo tempo, così, ragazzi, uno, basta, eh, uno così. No, no, hai giurati uno, app applauso. Così, secco, secco, allora, Federico Pedersani, titolare del Centro Estetico Benessere Settimo Cielo di Poggio Renatico, uno! E poi, Elena Malanchini, docente ANAM e titolare del Centro Wellness Time, dico giusto, di Ferrara, applauso! E andiamo avanti con Lauretta Dorazio, Lauretta Dorazio, addetta ai prototipi di una delle aziende italiane più famose del mondo, la Berluti, applauso! Barbara Vassalli, operatrizia di abbigliamento, molto conosciuta a Bondeno, applauso! Poi, conclude la tornata della Ferrara da bere, Adriana Valles Cavallari, titolare del conosciutissimo salone di acconciature Valles di Ferrara, applauso! Adesso invece veniamo da noi in paese, no? A parte il fatto che non si può più dire paese, ma bisogna dire città di Bondeno, da noi in città qua, Bondeno, diremo che sono dei foresti, mezzo e mezzo. Allora, abbiamo nell'ordine Francesco Mulonia o Mulonia? 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 Lui, lui! Eh, ma non guardate il ditto mio, non vedo niente, so senza occhiali, io vado random! Francesco Mulonia? Uno! Gino Sannicandro? Diciamo, parliamo di uomini, questa è la giuria di uomini e donne, loro sono tutti partecipanti di uomini e donne, adesso siete in pensione, nel senso siete fuori, over! Vi ha mandato via, tornerete, tornerete! Gino Sannicandro, Nico Felix, Claudio Di Russo, a controllarli il neopresidente della Proloco di Bondeno Stefano Cattabriga e Lamberto Paluzzi, commercialista, membro dell'Ordine Nazionale dei Commercialisti, nonché attore, attore per passione, presidente di giuria, con voto doppio in caso di parità oppure di litigio fra giurati, speriamo di no, Lady Italia 2017, Alessandra Benini! Non ce la fa, perché sono talmente fischi che non ce la fa! Allora, anche il pubblico potrà votare e decretare la Miss, la Lady e la Curvy che gli è piaciuta di più, grazie al nostro sponsor che è Travel Partner, ovvero uno sponsor che viaggia e fa viaggiare, e cioè l'agenzia Viaggi che è conosciuta ovunque ed è sinonimo di grande professionalità, ovvero i viaggi di Lara a Bondeno in piazza Garibaldi, Lara e i suoi collaboratori credo vi abbiano distribuito, non so come faranno venire a prendere, però vi hanno distribuito dei moduli e il pubblico potrà votare tra Miss, Lady e Curvy quella che è piaciuta di più, è vero? Aspetta, aspetta, aspetta! Allora, in giuria, in giuria c'è la, diciamo così, la Lady che l'anno scorso ha spopolato, spopolato. Allora, ci vogliamo presentare da soli? Non ce la fa, non ce la fa. Ricordami il tuo nome perché è la Rosy. Signori, Lady Bondeno, Lady più 2018, Rosy Impossato! Ok, ci siamo. È inutile dirvi che le Lady, le Miss, le Curvy e Miss Popolarità vinceranno delle belle cose, dei weekend, dei trick-end per due persone. Mi pare che quest'anno sia emozione e tre, ma poi Lara ce lo spiegherà. Basta, ho quasi finito. Le concorrenti, Miss, salgono sul palco, Giulia Menghini, Carolina Cornacchini, Martina Molinari, Alice Martini, Martina Leonelli, Deanna Volpi, Gloria Danti, Giada Fabri e Sara Pantano. Per il titolo direi di più, Gareggiano, Monica Zaghi, Milena Marchetti, Elena Gulinati, Barbara Poggioli, Laura Refleios, Maria Antonietta Pantoarte, Paola Pattaro, Stefania Berti Paglia, Nicolo Marsicano e Ilaria Ghisi. Per il titolo invece di Miss o Lady Curvy sono in gara Arianna Guaresi, Alice Battaglioli, Manuela Quadra, Giulia Breveglieri, Mary Dandretta.